La piena comunione visibile tra ortodossi e cattolici è una delle principali preoccupazioni di Papa Francesco, ribadita alla delegazione del Patriarcato Ecumenico di Costantinopoli che parteciperà alla festa dei Santi Pietro e Paolo, ricevuta oggi in Vaticano. Dopo aver sottolineato il profondo rapporto che unisce le Chiese Sorelle di Roma e Costantinopoli, il Pontefice ha ricordato la calorosa accoglienza ricevuta dal Patriarca Bartolomeo nella visita al Patriarcato del novembre scorso a Istanbul. L'abbraccio di pace scambiato al Fanar, aggiunto, è il segno di quella carità fraterna che deve guidare il cammino di riconciliazione. Auspico pertanto che possano moltiplicarsi le occasioni di incontro, di scambio e di collaborazione tra i fedeli cattolici e ortodossi, in modo che approfondendo la conoscenza e la stima reciproca si riesca a superare ogni pregiudizio e incomprensione, retaggio dalla lunga separazione e ad affrontare nella verità ma con spirito fraterno le difficoltà che ancora sussistono. Per questo Papa Francesco ha ribadito il suo sostegno al lavoro della Commissione Mista Internazionale per il dialogo teologico tra la Chiesa Cattolica e la Chiesa Ortodossa e ha assicurato la sua preghiera per il Sinodo Panortodosso che si svolgerà nel 2016.